Buongiorno. Quali sono gli strumenti giuridici che si usano in sede di pianificazione patrimoniale e quindi in sede di definizione della più efficiente intestazione del patrimonio, ovvero di pianificazione del passaggio generazionale o ancora di protezione del patrimonio e dei rischi di aggressione? Ebbene, gli strumenti giuridici che si possono utilizzare sono molteplici, vanno da quelli del diritto societario, la società semplice, le società holding, le società cassaporte, alle polizze di varia natura, index o unity linked in particolare, ovvero alla donazione o al testamento, per quel che riguarda la donazione bisogna sapere che vi sono moltissime modalità con cui può essere effettuata, il patto di famiglia, i trust o altri strumenti giuridici più evoluti e particolarmente efficaci. La cosa importante da tenere presente è che gli strumenti vanno utilizzati diversamente a seconda di come sono diverse le esigenze del singolo caso specifico. Non esistono mai soluzioni standard. Pianificare è possibile, pianificare bene crea moltissimo valore, ma pianificare le problematiche relative alla gestione, alla trasmissione del patrimonio richiede tempo, attenzione e soprattutto un'elevata competenza.